Cari amici, buonasera e stasera siamo collegati con un immunologo, con il professore Giorgio Maestroni, il quale è anche, voi che siete più attenti, è anche l'autore di tre grandi romanzi che se non l'aveste ancora letti dovreste correre a leggerli perché sono l'esempio di come si possa fare della buona letteratura facendo anche dell'ottima divulgazione scientifica. Sono il sorriso di Annun, Nucleargate e le stelle di pietra e avete visto in questo momento anche le tre copertine. Caro professore, bentornato in collegamento video nel salotto delle idee e naturalmente stasera conversiamo nel suo ambiente più specifico che è l'immunologia. Qui siamo in periodi di Covid, siamo in periodi di pandemia, per cui come stanno andando le cose secondo lei? Io direi abbastanza bene, soprattutto in Italia. Buonasera innanzitutto a tutti. Stanno andando abbastanza bene, soprattutto in Italia, per vari motivi. Siamo ancora in situazioni abbastanza tranquilla, insomma. È chiaro che la pandemia del virus probabilmente non ci libereremo tanto presto, oppure se le strategie di lotta contro di esso riusciranno diventerà un virus come ne esistono decine o centinaia che esistono però sono tenuti sotto traccia, insomma tipo il morbillo, la varicella e quant'altro. Tutto dipende dai vaccini e diciamo anche dalla possibilità di avere presto un farmaco specifico che si possa combinare o accoppiare i vaccini per controllare questo questo maledetto virus. Ecco, io mi sono appena vaccinato domenica scorsa, ho fatto la terza vaccinazione. Le prime due a me era toccato l'AstraZeneca, sul quale si è concionato molto, eccetera. E ora mi hanno inoculato Moderna. Ora c'è un grande dibattito, credo, da un punto di vista scientifico sulle due modalità dei vaccini. Se ho ben capito, lo stile AstraZeneca è lo stile tradizionale del vaccino, mentre quello di Pfizer e Moderna è la novità della modalità di fare dei vaccini. Qual è il suo punto di vista su questo discorso? Innanzitutto vorrei premettere che io considero i vaccini e assieme agli antibiotici le due più grandi scoperte mediche di cui disponiamo, o almeno tra le più grandi scoperte mediche e con applicazioni molto importanti. Per quanto riguarda la sua domanda specifica, l'AstraZeneca non può essere considerata un vaccino tradizionale, in quanto è sempre un vettore genico, nel caso dell'AstraZeneca è un adenovirus che non si replica, che trasporta l'informazione genetica per la produzione dell'organismo della proteina S spike del coronavirus. Nel caso del Pfizer o Moderna invece è l'RNA messaggero che direttamente entrando nelle cellule codifica attraverso i ribosomi la produzione di proteina S del virus creando in questo modo una produzione nell'organismo stesso dell'antigene contro cui il sistema immunitario si attiva producendo anticorpi e linfociti T che sono la parte cellulare della risposta immunitaria che sono molto importanti per la distruzione delle cellule infettate dal virus. Le piattaforme classiche fanno riferimento a virus inattivati o uccisi, come per esempio nel caso recente i vaccini cinesi Sinopharm o Sinovac usano virus attenuati con delle sostanze chimiche e così facendo presentano all'organismo non solo una proteina del virus ma tutto l'insieme delle proteine del virus del SARS-CoV-2 creando così una risposta immunitaria diciamo più completa, simile a quella che avviene durante la malattia della Covid. Quando uno si infetta del virus i suoi anticorpi e le sue cellule T sono diretti contro tutti gli antigeni virali che non sono solo quelli che gli epitopi, così si chiamano tecnicamente, cioè le molecole che creano lo stimolo immunitario, non sono solo quelli della proteina S. quindi diciamo nel caso della piattaforma classica, cioè quelle con i virus inattivati, la risposta immunitaria è più simile a quella che avviene durante la malattia. Ecco, e questo a quale conclusione porta? Dunque, intanto c'è da dire che le recenti osservazioni affermano, dimostrano che i guariti dalla Covid hanno un'immunità più, che è in linea con quanto ho appena detto, hanno un'immunità più resistente e più completa rispetto ai vaccinati, proprio per quello che ho detto, perché hanno una serie di armi maggiore, più completa contro tutti gli antigeni del virus. Per quanto riguarda invece il discorso della proteina S, il problema potrebbe essere nelle varianti che emergono, che non è solo la Omicron, adesso la Omicron, come dire, è attenzionata, come si dice con questo brutto termine, ma ce ne sono moltissime altre. L'Omicron sembra da alcuni studi fatti e pubblicati su Nature nel settembre di quest'anno che possa avere delle varianti sulla parte della proteina S che si aggancia al recettore umano, delle cellule umane, cioè l'ACE famoso, l'angiotensin converting enzyme, possa avere delle mutazioni che rende resistente agli anticorpi neutralizzanti. Neutralizzanti perché gli anticorpi che bloccano questa parte neutralizzano l'entrata del virus nelle cellule. Allora, io spero che questa indicazione non venga confermata da ulteriori studi perché altrimenti ci troveremo di fronte a un problema che si è risolvito. È il problema che questa Omicron, che peraltro alcune osservazioni che leggo sembrano non essere così aggressiva, è magari più contagiosa ma non così aggressiva come la Delta o la variante Alpha che abbiamo già conosciuto. Allora, in questo caso l'Omicron si dovrebbe creare dei vaccini tarati sulle nuove mutazioni di questa variante. Cosa che invece non avrebbe, non dovrebbe avvenire se si usassero dei vaccini come Sinopharm o Sinovac oppure ci sono altre strategie vaccinali. Io ho fatto recentemente, ho recensito recentemente una review che mi ha mandato un giornale americano in cui si descrive il fatto che nel agosto di quest'anno, in quel tempo c'erano 296 vaccini in studio, nuovi vaccini non quelli che sono usati attualmente, di cui 112 già in fase di studio clinico e i rimanenti 184 ancora in fase preclinica sugli animali da esperimento. Tra questi si possono annuverare ancora dei vaccini a vettore genico come questi, ma anche altri, per esempio con le proteine ricombinanti, sempre della proteina S, che vengono iniettati passivamente, cioè la proteina S viene iniettata nell'organismo e non viene prodotta dalle cellule come nel caso dei vaccini a vettore genico. Oppure su base di vaccini sulla base di virus like particles, che sono praticamente come il virus senza acidi nucleici, cioè è un virus privato della, diciamo, riassumendo rosamente che cosa sono i virus like particles, è come se fosse il virus privato della capacità di replicarsi, per cui presenta all'organismo tutte le proteine del virus stesso e gli altri antigeni che ci sono. Nel caso specifico, nel corona, il SARS-CoV-2, questo coronavirus che tanto problemi ci dà, ha, oltre alla S che è la proteina con cui si attacca al recettore per entrare, umano per entrare nelle cellule, ha una proteina che si chiama E che è nel envelope, cioè nell'involucro, una proteina M che è sulla membrana e una proteina N che è vicino al nucleo, si chiama nucleo capside, si chiama N, quindi ha quattro proteine abbastanza complesse, quindi sicuramente queste proteine avranno, presenteranno diversi epitopi, diversi da, molti epitopi diversi da quelli della S, insomma, e quindi la produzione di anticorpi contro, per esempio, un vaccino basato su questo virus like particles potrebbe essere simile a quello che si avrebbe usando il virus attenuato, simile alla risposta immunitaria nelle persone guarite che si sono ammalate e così via. E quindi si supererebbe il pericolo di una mutazione radicale della S che renderebbe potenzialmente il virus resistente ai vaccini. Ecco, ma da quello che mi sembra di capire da ignorante che sono sulle tematiche scientifiche, è che in fondo chi è riuscito a sopravvivere dopo essersi infettato di Covid, alla fine ha una protezione che supera qualsiasi tipo di vaccino, o no? Sì, sì, quello che stavo dicendo è proprio questo. Se uno ha superato la malattia ha una protezione sicuramente superiore. Adesso il problema è la durata della protezione stessa. Essendo il SARS-CoV-2 un coronavirus è possibile che l'immunità anche dei guariti non sia perenne, cioè diversa da quella per esempio data dal morbillo o da altri virus. Essendo per esempio il raffreddore comune, una famiglia di virus del raffreddore comune sono coronavirus. Eppure noi facciamo il raffreddore spesso per tutta la vita. Questo significa che in parte l'immunità viene meno. Adesso per questo virus è impossibile dire esattamente perché non è passato abbastanza tempo. Però sicuramente nel breve termine, diciamo entro l'anno, direi che l'immunità di un guarito è sicuramente superiore a quella di un vaccinato. Io tra l'altro volevo prendere l'opportunità di dire che proprio questa è la durata della protezione conferita dai vaccini. È un fattore determinante. Io ho pubblicato recentemente un lavoro su Neuroimmune Pharmacology suggerendo di fare uno studio usando la melatonina prima o dopo il vaccino. Siccome la melatonina è una sostanza in grado di equilibrare la risposta immunitaria, potenziarla quando è insufficiente o ridurla quando è esageratamente alta di tipo infiammatorio, ha questa proprietà. Infatti è stata definita un tampone immunitario, un buffer in inglese. Allora è possibile che una somministrazione prima della vaccinazione, per qualche giorno prima della vaccinazione o a seguito della vaccinazione stessa, risulti in una immunità potenziata contro il virus e forse anche di più lunga durata. Questo è un suggerimento, però bisogna fare lo studio ovviamente. Ecco, ma la melatonina da dove viene? Come si procura una persona la melatonina? La melatonina adesso viene, la melatonina è una lunga storia, è stata una molecola, è una molecola molto interessante ma da un certo punto di vista sfortunata perché è stata un pochettino considerata a un certo punto negli anni 2000, alla fine del 1900, negli anni 90, nei primi anni 2000, sono usciti alcuni libri che consideravano, che spacciavano la melatonina come forse una panacea di qualsiasi cosa e allora io mi ricordo che c'erano diverse ditte, tra cui farmaceutiche, tra cui alcune ditte francesi, che erano interessati agli analoghi della melatonina alla melatonina per farla diventare un farmaco vero e proprio. Purtroppo poi con questa pubblicazione un po' inopportune, l'interesse scelmò rapidamente. Adesso, come adesso, la melatonina è considerata erroneamente, a mio parere, un integratore e può essere comperata in farmacia, dove si può comprare delle confezioni solo con un milligrammo per capsula o pilula. Ma ci sono dei cibi che possono contenere la melatonina o no? Ci sono cibi? Sì, frutti. Nel latte, per esempio, c'è la serotonina che è il precursore della melatonina. Quindi, non so, per esempio, quando uno dice, ci faccio una bella tazza di latte e poi vado a dormire, probabilmente quello che succede è che bevendo una tazza di latte assume serotonina e questa nell'organismo produce melatonina che favorisce il buon sonno. Sì, sì, certamente è presente, nel cibi è presente. Però, adesso io non è che suggerisco di prendere la melatonina così a caso, empiricamente. Io ho suggerito di fare uno studio e deve essere fatto uno studio in doppio cieco, per cui ci dovrebbero essere quattro gruppi, un gruppo che prende la melatonina prima per qualche giorno, alcuni milligrammi per giorno prima della vaccinazione, un altro gruppo che prende la stessa dose dopo la vaccinazione e altri due gruppi che prendono pillole senza contenere melatonina, cioè il placebo, senza saperlo però. E poi alla fine si vede come vanno le cose. Certo, però cercando di fare sintesi, a un certo punto chi ha preso il Covid ed è riuscito a sopravvivere e non è morto, diciamo, si ritrova con una protezione certamente subito dopo essere guarito, superiore a quella che può avere una persona che si è vaccinato. Però il tema è la durata di questa protezione, come il tema della protezione c'è anche per chi si vaccina con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca o con qualsiasi altro vaccino approvato. Cioè il tema della durata, mi sembra che sia della durata della protezione, sia la chiave e sarà forse questo il tema ricorrente, tipo come l'influenza, ogni anno uno si fa il proprio vaccino contro l'influenza. Il destino sarà questo o no, secondo lei? Secondo me è probabile che sia così, perché l'influenza è un altro virus a RNA che muta rapidamente. Questo è simile, anche se di una famiglia diversa. Quindi è possibile, se non probabile, che si ritroveremo ogni anno a fare una vaccinazione contro questo virus. C'è da dire che l'immunità dell'influenza sembrerebbe un pochino più duratura, nel senso che si fa una volta all'anno e poi la si fa, la si rinnova ogni anno se l'emergenza del nuovo cepo influenzale lo richiede. Di solito succede così, cioè ogni anno c'è un cepo influenzale nuovo. E l'influenza poi, nel caso di un virus completamente nuovo, non è una cosa da sottovalutare neanche l'influenza, perché negli anni scorsi c'erano diversi decessi per l'influenza, naturalmente in persone defetate, anziane o con problemi. Comunque è un virus anche quello da non sottovalutare. Però per ritornare al coronavirus, è probabile che ogni anno si debba fare la vaccinazione contro il coronavirus, a prescindere dal... Allora, nel caso che non ci siano mutazioni, potrebbe anche essere che sia necessario fare la vaccinazione per, come si dice adesso, booster, per fare un richiamo dell'immunità. Nel caso che invece ci siano mutazioni, è ovvio che bisogna fare la vaccinazione perché sarebbe un virus nuovo. Ma è uno scenario probabile. Lei che si è vaccinato, credo come mi sono vaccinato anch'io, eccetera, che cosa consiglierebbe, oggi come oggi, stante le realtà e i progressi scientifici che ci sono stati nel frattempo, a quelli che ancora non si sono vaccinati, tentennano, eccetera, eccetera? Io reputo la posizione NOVAX un atteggiamento direi incomprensibile perché rifiutare d'emblè un aiuto specifico contro questo virus mi sembra una cosa, come dire, stupida perché non serve a nessuno. Quindi io mi sono vaccinato ovviamente perché diciamo che io mi augurerei che per tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora che prossimamente emergano dei vaccini come quello che menzionavo prima in cui si inoculi nell'organismo una serie di antigeni del virus maggiore, cioè nel caso del virus light particle in cui si presenti al sistema immunitario tutti quelli che è lo spettro del corredo antigenico del virus in modo da evitare che possibili mutazioni di una proteina inattivi la protezione conferita. Ecco, l'unica cosa che mi auspico è quella lì. dubito che non si trovi un vaccino di questo tipo nel senso, dubito che rimangano i vaccini attuali rimangano in auge che non siano affiancati da altri nuovi vaccini e quindi mi auguro che prossimamente ci sia un vaccino un pochino più potente ecco dal punto di vista della protezione contro possibili mutazioni delle varianti. La scienza va avanti, le ricerche vanno avanti però è sicuro che i vaccini che ci stanno inoculando non li possiamo considerare dei vaccini sperimentali ma sono i vaccini che possiamo avere in questo momento e qual è il suo sogno letterario? Nel senso che in questo momento essendo uno scienziato che ama anche il bello scrivere non è che questa pandemia le ha suggerito qualche soggetto per uno dei suoi nuovi romanzi? Beh, io è da un po' che penso ma non per la pandemia è già prima della pandemia che ho cominciato a mettere giù delle idee delle cose così perché è uno dei che è un argomento che a me mi interessa a parte i virus che ho già trattato nel primo libro dove ipotizzavo l'insorgenza di una pandemia dovuto a un nuovo virus influenzale nel sorriso di anno un argomento che è sottaciuto un pochettino che è molto grave è quella della resistenza agli antibiotici che fa diverse vittime in tutto il mondo ogni anno infatti le infezioni che si prendono soprattutto negli ospedali dove gli antibiotici ovviamente sono usati largamente come è ovvio sono sempre di più difficile controllo e questo argomento mi aveva suggerito di scriverci sopra con la scusa di divulgare un po' anche i meccanismi di come i batteri riescono a sviluppare la resistenza agli antibiotici di scriverci sopra un romanzo insomma di inserirlo in un romanzo così poi dopo è arrivato il covid la pandemia eccetera e mi sono un po' arenato però questa era l'idea l'idea che ho iniziato a stendere insomma bella idea bella idea io spero che questa idea vada a buon fine nel prossimo anno nel 2022 che lei ci regali il quarto romanzo è un romanzo appassionante e di grande divulgazione scientifica perché il professor Maestroni chi ha avuto il piacere finora di leggere le sue pagine è un grande divulgatore scientifico però riesce ad inserire il tema scientifico nell'ambito di racconti estremamente appassionanti e coinvolgenti ci fa questa promessa che l'anno prossimo ci regalerà questo nuovo romanzo sul discorso degli antibiotici ci provo ci provo va bene proverò a mantenere la promessa perché non è io scrivo molto lentamente perché un po' per diciamo non è così semplice divulgare dei concetti semplici non è così facile divulgare dei concetti semplici e poi dopo devo inserirlo come dice lei in una storia che tiri un po' il lettore perché lo scopo è un po' quello di divertire e nello stesso tempo di informare non è una cosa a me non mi viene proprio facilissima la cosa ci provo ecco ci provo ma secondo me ci prova molto bene ci riesce molto bene la scrittura lenta è tipica dei veri scrittori per cui amici miei credo che l'anno prossimo il professor Maestroni ci regalerà un'altra golosità da leggere e da gustare dalla prima all'ultima pagina io le auguro buone feste buon Natale e auguro anche a chi ci segue buone feste e buon Natale e diciamolo buon Natale Natale perché in Europa dall'Europa c'era stato qualcuno che voleva impedirci di usare la parola Natale in mezzo a tutti questi sciocchezzai che si sentono era venuto anche questo sciocchezza non le pare professore eh? sì sì veramente veramente una cosa incomprensibile comunque auguro anch'io buon Natale Natale a tutti e anche a lei Simonelli con tanto piacere e tanti auguri anche di un buon inizio anno veramente speriamo sperando che l'anno prossimo di questi tempi non si dovrà ancora parlare di pandemia o parlarne diciamo un pochino più leggermente un pochino più tranquillamente di nuovo buon Natale buonasera a tutti buonasera arrivederci amici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti